ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video in una nuova challenge perché oggi faremo una challenge sul mio canale che challenge facciamo oggi? oggi faremo una challenge che è già stata fatta da altri youtuber ma volevamo provarla noi. io già sto ridendo praticamente questa è la prova non ridere challenge come funziona? tu l'ha fatta anche mia nona in cariola praticamente la nostra sarà alternativa allora metterò dei video da youtube e dovremo guardarli ogni volta che uno dei due ride si deve attaccare su una parte del corpo in fronte sui capelli sulla bocca così dei pezzi di carta ognuno ha i colori io rosso lui c'ha il verde e lo scotch con la forbice ricordate punta arrotondata bambini ricordatela ok e la penitenza sarà dopo finita la challenge contiamo quanti bigliettini abbiamo attaccati e la penitenza sarà che bisogna ognuno deve decidere se vuole l'acqua o il ginger e dovrà essere mischiato con un pochino di olio piccante se ce l'ho se non ce l'ho proveremo o l'olio normale qualche altro schifo esatto oppure l'aceto quindi vediamo cosa abbiamo in casa dopo non si sa mai ok allora possiamo iniziare magari siamo prepariamo i primi scotch intanto vi dico che mi sto organizzando per cercare di pubblicare almeno tre video settimana quindi cercherò di fare ce lo farai mai ci proviamo perché c'è anche il lavoro quindi qualche problema potrebbe esserci e tra poco cambio il telefono quindi ricomincerò con tutti i video da telefono ok allora vediamo partiamo con questo apri link nuova scheda perché ho tre pagine aperte non lo so ok ma si può sorridere si può sorridere si può far così non è contatto ma si può sorridere si può sorridere che uomini che uomini che uomini che uomini oddio ragazzi aspetta nello scotch ecco da dimmi il troppo tu sei a due oddio che stecca che se ha preso quello di devo guardare so che si vede si un po' però se no non attacca non so perché non attacca sto scotch boh vabbè si è preso una tegra fotonica ah questo l'ho già visto io perdo gli occhiali ragazzi io perdo sicuro perché io sti qua io li guardo io fossi vero siamo 3 a 1 eh oh zio si ma io sti qua li ho visti anche prima però è impossibile vabbè ah questo non so gli arriva in faccia oh you ok bro? si è rotto il naso si esatto you ok man? questo qua si è adatto non c'è speranza per la humanità ma perché? non c'è ma perché? non c'è niente non c'è niente non c'è niente sei ok? sono tutto male vedi cosa fanno? non c'è niente sto prendendo il limite si è andata sui foglio non c'è niente ma la volta è andata la volta è andata si ma non c'è niente non c'è niente non c'è niente sta qua si ha fatto un fracco di male questo qua è casa è sicuro? ah no no ha scaccolato addosso ha lavato il c'è niente la volta è andata è chiamata una palla nera questo qua si fa uno fracco di male tu qua si fa uno fracco di male finatevi dello scotch oh io sonio Che culata che ha tirato, mamma mamma che culata, quello li si è aperto, il nostro sacro è andato in culo, non potrà più sedersi per un mese, le morroni possono accompagnare, bene anche, oh mio dio che male al culo, ho sentito dolore io, ragazzi, mi giuro, questo caso mi sbaglio se tu viene martellato addosso o qualcosa del genere, sì esatto, questo fa male, questo qua ci impianta, mi fa ridere, ma perché non fa queste robe qua, americani, questo mi fa tutto addosso, sì, è impassibile, questo qua si stracciava contro il vetro, almeno corresce più veloce, stiamo in brutta e perdendo, siamo 5 a 2, mi sembra che ti vivi tu lo schifo, sì, lo so, ma tu non hai il cuore, non hai sentimenti, Andiamo, quasi scarica, questo ci sfraccella le gambe se non sbaglio, lo può finire su un'albero, questo qua cade, cade in acqua, io però le luci sotto, questo ci sfraccella, questo qua si piglia una pallonata in faccia, ne sono sicuro, ah che male, che sticca ragazzi, aia che male, ma questi non fanno ridere, può soffrire, è tanto, questo qua, aia, aia, e lo dove andare a legare, che lo deve fare Mil aprende, che si sponde, questo qua si piglia, ma vai, må fai ridere, come no, si sponde il trampolino, non sai come ti lo ho visto è questo video, faccio di Trampoline, Non so più dove attaccarli Non si attacca più Attacchiamo uno sopra l'altro Poi li contiamo È più facile contare così Ah questa si salta via Fa un funcione Ah ragazzi Fra un po' la riproveremo E vedremo cosa sarà cambiato Poi vedremo Fidati Prossima volta La rifaremo però con i video di Amedeo preziosi Cazzo Ah questo si chiude il cancello dentro Se non sbaglio Questa è piena E non ha senso Questa è una scarpata in bocca Perché? Vai ci sgrassa Vai ci sgrassa Vai ci sgrassa Questa si questo Aia che male Questo poi si spatta Questa è una scarpata in bocca E' una scarpata in bocca Bravo Questa si lavano Questa la testa Grazie a te Oh Questo è lo sbatto sulla lampada Oddio ragazzi che spalle L'ho messo a K Ehi che mi ha tirato Trovo io andassi un complicato No me ne ho E vediamo quanti Alla fine di questo No me ne ho Quanti ne ho io probabilmente Probabilmente io ne avrò il triplo di lui Perché siamo 6 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 A 2 Partiamo con questa Ma va che mi ha scritto una tipa Sicuramente la solita cessa di me Papà Ma questo era lui Dove cazzo è finita Un mondo spastico Ma che gioco di merda Oddio ha finito il scotch Io non ho riso Ero mini ma non ho riso Adesso è dura Adesso è dura Quello che viene successivamente Seguitelo ragazzi Non si attaccano più Non si attaccano più Madonna mia Questo lo facciamo tutti sicuramente Ma chi è il più bello? Ma chi è il più bello? Scusa ma ce l'hai con me per caso? No di vero ce l'hai con me? Ce l'hai con me brutto stronzo? Questi cazzi Muori Muori Perché non muoiono? Da dietro Perché non muoiono? I tedeschi di merda Ma guarda che l'hack Bastante infane La faccia che fa Questo sarebbe un buon momento Per arrabbiarsi E questo è il mio segreto Capitano Sono sempre arrabbiato Mi ha fatto la muta Oh 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 Ma non sta! Speri sto suicidio! Hai bevuto? No! Sei ubriaco forse! Ma no! Non si vede? Sei ubriaco forse! È leggermente piombato per terra! È leggermente piombato! È leggermente piombato per terra! Ok, questo è bellissimo! Ehi là! Salve! Sono io, Topolino! Allora, vi va di fare un salto nella mia casa? No! Ah sì? Grandioso! Su, andiamo! Che begli alberi! Me ne ero quasi dimenticato! Per far apparire la mia casa, dobbiamo dire la parola magica! Ti stomi orgogliame! Ti scань! Ti scatto a scattare da fare la parola! È qua impossibile la ridere, puro questo qua! È bellissimo, zio! È possibile la ridere! Inmediati, è possibile! Sto parlo di blu lo sto prendendo, eh! E' mio, questo che mi fa i miei foglietti! Lo vuoi? No, no, no! Facciamo punto a te perché tu sei rosso! Peraltro questa sarà anche la striscia del pediatore challenge perché probabilmente ci perderò mezzo i peli Vabbè... Partiamo! Vedete qualcosa che possa aiutarci a fare in fretta? E' dietro di te! Gira quella testa di merda! I pepiti crescono anche a parte con queste robe! Perfetto! Cos'è possibile? Ero ridere con sti video però... Ok, questi diciamo che erano gli ultimi video... No, metti in ultimi! è sul video finale! Ok, abbiamo... L'ultimo video L'ultimo video... che è incomprensione come sempre quando sei a pranzo! Pronto? Il conto? Il conto? No, sono al telefono! Oh, a me quindi? Comunque alla fine abbiamo deciso di andare al mare! Un'acqua migliore! No, sono al telefono! Ma alla fine con Claudia? No, la tipa l'ho lasciata! Un'aranciata! 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 Non la voglio! Io non sto ridendo! Come fai a non ridere? Non hai un'anima! Non hai un cuore! Tu non sei normale! Come si attacca a sto foglio? Aia! 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 Allora... Penso che si possa capire chi ha vinto! Ok, allora... Contiamo! 1... 2... 3... 4... Io ho 1... 2... 3... 4... Aia! Aia! No, no! Non sto fermo! Aia! Aia! Quanti sono? Non lo sono! Mi sto contando! 1... 2... Sto soffrendo! 3... 4... 5... 6... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 a 5! Aia! Che male! Mi sa che tu ti bevi la schifezza! Vuoi acqua o ginger? Ginger! Mettiamo... un po' di ginger! Penso che lì possa bastare! Ok! Mettiamo qua la nostra roba! E adesso... O che è forte questo zio! Facciamo vedere bene la nostra preparazione! O che è una spada ovunque! A posto! A posto! Ok! Adesso ho qualcosa per mescolare prima! Sappiate che io non ho problemi! Faremo anche una sfida! Una roba così! Una roba così! Che sarà l'intruglio challenge! Che faremo tutte intruglie e dovremo mangiarli o berli! E chi non lo mangia... Facciamo la dopo! Facciamo la dopo! Perché non ho materiale adesso! E' buono! E' veramente buono zio! Stai sboccando! No! E' buonissimo! Fantastico! Un massaggio! Me ne faccio un'altra! No! No! Ho bisogno alla fine! C'era un po' di... ... Vai! Alza bene! Che sirena! Ma basta! Zio! Dai! Bevi! Miscia! Zitto e bevi! Buona! Quindi... Questa è la penitenza! Questa è la penitenza che purtroppo ha passato! No! Purtroppo no! E' piccata adesso! Purtroppo è riuscito a non soffrire! Stai iniziando adesso però! E' un bosco un po' ritardato! Vabbè! Quindi! E' adesso... Quindi! Per questo video è tutto! Lasciatemi sotto i commenti che altre challenge volete! Quindi! Sè! Sgheh! Sgheh! Noi vi lasciamo! Con il solito saluto elettrizzante! Pietro Coricelli! Come si chiama! Dove? Ah! Sì! Sì! Quindi! Ricordatevi iscrivervi! Commentare! Lasciare dei like! Spolliciare ovunque! Qua! 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 Per iscrivervi! Andate a cliccare sul canale! Non volete iscriverti qua sotto! A destra! Sì! Quindi! Vi lascio un saluto elettrizzante! A destra! A destra! A destra di qua! Oh! Non cambia niente! Vabbè! Quindi! Lascio un saluto elettrizzante! È bella ragazzi! Ciao! Pari! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Che pensavo è lo Chibotallenge! Pensavo è lo Chibotallenge!